Ciao a tutti e benvenuti su Touch Gaming, in questo video vi mostrerò l'intera mappa di Man Eater, quindi regione per regione, vedremo insieme dove trovare tutti i collezionabili. Quindi io ho completato il gioco in 40 ore circa, bene o male, ho impiegato molto tempo ad esplorare soprattutto il golfo, perché è immenso, però alla fine ce l'ho fatta, ho portato a termine il gioco al 100%. Quindi adesso partiamo da Baia Aragosta, questa è la posizione di tutti i collezionabili, magari mettete il video in pausa per consultarla durante la vostra esplorazione. Quindi dove ci sono, tipo questi rettangoli sono le casse, dove ci sono questi sono quei cartelloni che girano praticamente, e poi ci sono da recuperare i punti panoramici che qui non ci sono, però in altre regioni sì. Quindi questo è il Baia Aragosta. Spostiamoci nella seconda zona, Bayou di Fautic, che è molto più grande, quindi qui ci sono anche i punti panoramici che sono questi, quindi ci sono 10 punti panoramici, 17 casse e 10 cartelloni. Questa è la posizione di tutti i punti. Passiamo poi alla terza zona, Lago del Cavallo Morto, che è ancora più grande, ma è molto più semplice rispetto alla precedente, perché come potete vedere, diciamo, i punti sono collocati in modo più, diciamo, ampio rispetto qui, che sono tutti insieme. Qui, diciamo, potete trovare diverse cose, quindi 10 punti panoramici, 14 casse e 10 cartelloni, oltre naturalmente le missioni. Spostiamoci su Costa Dorata, che è molto più piccola, ma ha molte più cose. 8 punti panoramici, 17 casse e 10 cartelloni, che potete vedere qui. Io zoomo per farvi vedere bene la posizione, magari mettete il video in pausa e così riuscirete a trovarli tutti. Ecco, non dimenticate questo cartellone qui in alto, quindi questa è la posizione di tutti. Spostiamoci su Baia Zaffiro, io sto andando in ordine con la storia, ovviamente. Questa è la posizione di tutti i punti. Ecco, zoomo un po' così, e ci sono 8 punti panoramici, 19 casse e 10 cartelloni. Non so se li vedete tutti, ecco, mettete il video in pausa qui e così potete consultarli. Poi ci spostiamo su Sabbie Floride, che ha 10 punti panoramici, 12 casse e 10 cartelloni, che potete trovare qui. Ecco, non confondetevi quando vi trovate in zone tipo queste, perché ce ne sono ben due e non una. Magari zoomando indietro sembrano poche, ma in realtà sono molte di più. Soprattutto quando entrate tipo in questi tunnel, a volte trovate molte più cose. Quindi questo è Sabbie Floride. Poi spostiamoci su Baia Corallina, che è molto più grande. E come potete vedere trovate 8 punti panoramici, 13 casse e 10 cartelloni. Sono molto semplici da trovare, come potete vedere, in molti di essi, diciamo, dovete entrare nei vari tunnel, come potete vedere. Ed è un po' impicciosa la cosa, ma non è tanto difficile trovarli tutti. Infine abbiamo, ecco, un ultimo sguardo, infine abbiamo il golfo. Il golfo è veramente immenso. Sono molto distanti qui tra loro, ma è uno scenario davvero grande. Infatti ci sono 9 punti panoramici, 21 casse e 10 cartelloni. Qui sono tutti distanti tra di loro, ma quando scenderete in basso qui avrete una situazione differente, perché sono tutti vicini, praticamente. Dovete entrare nei tunnel per recuperarli, quindi non perdete tempo magari a girovagare attorno all'isolotto, perché non ci sono. Dovete entrare dentro i vari tunnel, qui, come potete vedere. Ogni tunnel ha uno o più cose. Quindi entrate nei vari tunnel per trovarli tutti. Ecco, zoom un po' indietro, così vi mostro la posizione di tutti. Ecco qua, si vedono tutti. Questa era l'ultima località del gioco, quindi seguendo questo video riuscirete a completare il gioco al 100%.